Il reparto di chirurgia dell'ospedale San Salvatore da oggi è intitolato ad un autentico maestro della chirurgia, Claudio Vittorini. A vent'anni dall'improvvisa scomparsa dello stimato chirurgo che ha cresciuto generazioni di giovani medici, l'Aquila lo ha voluto ricordare con una targa che da oggi sarà fissa nel reparto, ma anche con un momento di approfondimento alla dimora del Baco, in cui si è parlato dell'evoluzione della chirurgia, anche senologica, che ha fatto passi da gigante anche con l'uso del robot da Vinci in dotazione alla Asla. Quattro figli, due chirurghi che hanno seguito le orme del padre e due architetti, con la signora Giovanna commossa nel vedere che a vent'anni l'affetto per il maestro è ancora immutato. Un'intitolazione fortemente evoluta anche dal direttore del reparto Roberto Vicentini e dal manager della Asla. Claudio chirurgo e Claudio Babà sono la stessa cosa e due cose diverse. Oggi innanzitutto io ringrazio Roberto Vicentini per questo evento, ringrazio la ASL, nella persona del direttore generale, ringrazio la città perché per me memoria è un qualcosa di importante, è un qualcosa di importante per la città, è un qualcosa di importante per tutti. Ricordare poi mio padre oggi è un qualcosa di bello, quindi è una giornata bellissima a distanza di vent'anni dalla sua scomparsa e quindi quando ricordo mio padre come chirurgo lo ricordo inflessibile in sala operatoria, preciso, pretendeva il massimo. Claudio Vittorini è maestro di chirurgia, è stata sempre la figura di riferimento per la città come chirurgo, conosciuto sia a livello però locale che abruzzese e nazionale. Per quanto riguarda abbiamo cercato in qualche modo di emularlo, di continuare quello che lui ci aveva insegnato e adesso siamo una chirurgia d'avanguardia. Oggi nel ricordo di Claudio Vittorini morto vent'anni fa qui nella nostra città è proprio quella di fare una profonda e grande riflessione sulla situazione della chirurgia nella nostra azienda. Sottolino e dico nella nostra azienda e non soltanto nell'ospedale San Salvatore perché l'attitudine, la vocazione che l'unità operativa complessa di chirurgia dell'ospedale San Salvatore ha è proprio quella di esportare la sua professionalità anche negli altri ospedali della nostra provincia.